Un paio di brutte scelte da una parte e dall'altra, prova Henderson da tre punti, questa volta arriva, la riceve Holman, trova un buon tiro con Henderson, Verona, lo manda a bersaglio, Carvel Henderson. Henson con la tortona in attacco, il taglio di Machiura, ma l'anticipo di Smith contro il piede di Henderson che va a chiudere appoggiando il vetro. Eppi Machiura in penetrazione è qualcosa di devastante, risponde Carvel Henderson dall'arco per la Tezenis, Henderson in penetrazione, prova ad appoggiarsi al vetro, viene fuori un circuit shot e un canestro. Grazie.